Fa più male? Per capirlo abbiamo chiesto a un laboratorio certificato di condurre un lungo e complesso studio anche su cellule polmonari umane e dopo mesi di sperimentazione e analisi abbiamo inviato i risultati a sei tra professori primari e specialisti di varia natura. Buongiorno! Allora, partiamo dalla sigaretta tradizionale. Sembrerà scontato ma è cancerogena? Certamente! Quello che magari la gente non sa è la quantità di cancerogeni che ci sono dentro le sigarette tradizionali. Sono oltre 4.000 sostanze molto tossiche ed oltre 70 cancerogeni certi. Scusate se è poco. È devastante. Ne dico solo alcune. Il butadiene, nitrosamine, acetaldeide, benzene, cadmio, piombo, mercurio, ossido nitrico, pirene, stirene, clorodivinile. Non dico altro. È la principale causa della polmonite cronica devastante. Insomma, la sigaretta tradizionale male male. Direi che è il diavolo. Motivo per il quale la stessa Philip Morris ha introdotto nel mercato la Aicos. Cosa ne pensate? Adesso le compagnie del tabacco con questo prodotto si pongono come paladini della buona salute. In realtà nella Aicos c'è anche il tabacco. La dipendenza resta. C'è proprio il bisogno del tabacco. Ma il tabacco delle Aicos viene riscaldato, non brucia. Non brucia ma viene vaporizzato. A 350 gradi si carbonizza qualsiasi cosa. Ricordiamoci, il tabacco aumenta la fatica circolatoria del cuore. Va bene, ma c'è differenza dalle sigarette tradizionali? Se non si può smettere. Io sono il primo a dire prova Aicos. Sicuramente riducono il rischio. C'è effettivamente una certa tossicità a livello oncologico nell'ambito degli Aicos. Però molto poco rispetto alle sigarette tradizionali. E riguardo ai metalli pesanti, Aicos ne rilascia? Ne rilascia ma è quantità minore. Ok, passiamo alla sigaretta elettronica. Stando sempre alle analisi che avete potuto consultare, come se ne è cavata? È andata molto meglio delle sigarette tradizionali ed è andata meglio anche di Aicos. Perché il monossido di carbonio torna totalmente nella norma. Gli effetti collaterali sono molto minori. La prima cosa che è venuta fuori è la forte riduzione del danno. Obiettivamente la sigaretta elettronica ha un profilo di sicurezza molto alto. Direi quasi assoluto. Se tutti i fumatori passassero ai vaporizzatori, non solo avremmo il crollo del tumore al polmone, ma avremmo il crollo dei tanti problemi che riguardano la salute in generale. Molti però pensano che Aicos e sigaretta elettronica siano la stessa cosa. Non è corretto. Aicos ha delle potenzialità di danno ovviamente maggiori. E ripeto, comunque rilascia delle esalazioni che sono patologiche. Tutto chiaro. Ma tornando alla sigaretta elettronica, rilascia sostanze cancerogene? No, non mi sembra che ci siano delle condizioni così gravi. Metalli pesanti? Irrilevanti in termini clinici. Alla luce di questi risultati, quindi, tra Aicos e sigaretta elettronica, quale fa meno male? Noi regolarmente indirizziamo verso la sigaretta elettronica. Eliminate la sigaretta normale e arrangiatevi con l'elettronica. Con l'accortezza che le ricariche vengano fatte in Italia non siano di importazione. I liquidi ben fatti, in particolare gli italiani, obiettivamente sono estremamente sicuri e questo lavoro lo dimostra. Ok, stando alle analisi, in una scala di rischio che va da 0 a 100, dove collochereste sigarette tradizionali, Aicos e sigarette elettroniche? Per quanto riguarda la sigaretta tradizionale, il rischio è 100, punto. La Aicos 30 mettiamo al 30-40%, 60, 10-20 rispetto ai 100 delle sigarette tradizionali, tra 10 e 5, dai 20 ai 40. E la sigaretta elettronica invece? La metterei a un rischio 10 addirittura, 10-15%, 10 sarebbe sigaretta elettronica, da questi test direi del 10 sul 100, 5, tra 5 e 2. Scusate però, se la sigaretta elettronica fa davvero meno male, perché viene guardata con sospetto dal Ministero della Salute? Dico non conoscenza perché ignoranza è una parola antipatica. Non commenta a questo punto. Ma intanto il governo inglese ha preso una decisione tale da favorire l'utilizzo di sigarette elettroniche. Approva questo approccio, non parliamo di un popolo sottosviluppato, e fanno pubblicità per questo. Ma d'altro canto alcuni detrattori della sigaretta elettronica sono ricercatori puri, che magari non hanno curato neppure un tabaggista. Tant'è vero che abbiamo creato una commissione internazionale che supporta l'utilizzo della sigaretta elettronica come metodo per smettere di fumare.